Concessioni balneari sì alla proposta di legge, il provvedimento introduce nuovi criteri e l'accorciamento dei tempi per l'assegnazione delle concessioni ai comuni costieri toscani. Accatastamento Caminetti, non più obbligatorio la modifica alla legge approvata dal Consiglio regionale ma rimane condizione necessaria per accedere agli incentivi. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la nuova proposta di legge sulle concessioni balneari. Il provvedimento prevede criteri di premialità ed equo indennizzo, indicazioni omogenee e in tempi rapidi ai 34 comuni costieri toscani. La proposta di legge è stata approvata con 30 voti favorevoli, PD, Italia Viva e Lega, 3 voti contrari in Movimento 5 Stelle e Forza Italia e 6 voti di astenzione, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Merito e Lealtà. Intanto l'apprezzamento per un'approvazione larga del Consiglio su una proposta di legge che innova la legge 31 del 2016 sulle concessioni demaniali ad uso turistico e ricreativo, più banalmente le concessioni per gli stabilimenti balneari toscani. Noi con quella legge fornimmo alle imprese e anche ai comuni un quadro giuridico di riferimento per il rilascio delle concessioni da 6 a 20 anni, inserendo alcuni principi innovativi come la tutela dell'ambiente, la proposta di progetti che alla richiesta di concessioni accompagnassero iniziative di interesse generale come la riqualificazione ambientale, la tutela della costa e della duna, progetti di salvamento collettivo o individuale anche sulle spiagge libere e introducemo anche il principio dell'ecoindennizzo, cioè che se nell'ambito della procedura competitiva, quindi di una gara, chi chiedeva la concessione, chi avesse chiesto la concessione, avesse perso la procedura competitiva, questo dovesse essere indennizzato per una quota che all'epoca stimavamo nel 90% del valore aziendale dell'impresa, considerata nel suo complesso, quindi i beni strumentali e anche l'avviamento, quindi il valore reddituale incluso, la valorizzazione che dell'impresa negli anni si era fatta, l'affidamento nei confronti ai clienti eccetera. Con questa legge reintroduciamo il concetto di equindennizzo che era stato all'epoca rimosso dalla Corte Costituzionale ma nel frattempo nel 2021 reintrodotto dal governo Draghi con una legge e forniamo alle imprese e soprattutto ai comuni toscani un riferimento normativo per la gestione di queste procedure di assegnazione delle concessioni. Anche con il riferimento all'equindennizzo riferito al valore non ammortizzato dei beni strumentali, quindi degli investimenti che l'azienda ha fatto e anche al valore reddituale dell'impresa. Affidiamo alla Giunta regionale che avrà 45 giorni di tempo la redazione delle linee guida dove questo equindennizzo sarà qualificato. Inoltre si introduce un altro principio che è quello della tutela delle micro, piccole e medie imprese nell'ambito delle procedure competitive, cioè se più si è piccoli, micro o medie più si avrà una tutela perché uno dei rischi è che i nostri stabilimenti balneari nell'ambito di procedure competitive sregolate, diciamo così, siano travolte da grandi gruppi, in particolar modo multinazionali che hanno risorse imponenti e che rischiano però di spoliare di identità il sistema dell'offerta turistico balneare all'interno della nostra regione. Questo è un po' lo schema che abbiamo reintrodotto, qualificato, confidando anche di contribuire a un'evoluzione dell'approccio nazionale su questi temi perché su alcune di queste norme servirebbe un intervento dello Stato, ma noi siamo intervenuti urgentemente perché la proroga per le concessioni scade a dicembre e dal primo di gennaio le nostre aziende rischiano di essere sostanzialmente fuori concessione, quindi di occupare uno spazio demaniale senza titolo e questo andava assolutamente impedito. Allora, per quanto riguarda la proposta di legge 259 che riguarda le concessioni demaniali marittime, il gruppo Italia Viva ha votato favorevolmente, riteniamo apprezzabile quanto proposto dalla Commissione con questo atto riguardo all'ecoindennizzo che però non può riguardare solo esclusivamente il valore intrinseco del fatturato, ma anche tutti gli investimenti che sono stati fatti durante il corso degli anni di gestione, compreso gli investimenti a salvaguardia del litorale. Bisogna considerare che molti bagni hanno ancora oggi una renire, hanno ancora oggi una spiaggia grazie al fatto che gli imprenditori che lo gestiscono hanno attraverso un percorso burocratico lungo e un intervento costosissimo posato scogliere a difesa della spiaggia, cosa che a mio avviso ne andrà tenuto conto quando si andrà a parlare l'evoindennizzo. La legge 31 della regione Toscana ha già messo in sicurezza un numero importante di aziende, le aziende che si occupano di gestione delle spiagge in Toscana sono circa 900, 300 hanno aderito a questo principio di legge riguardo agli investimenti, cioè in base a tutta una serie di investimenti richiesti si ha la possibilità di vedersi rinnovata la concessione. C'è un principio di concorrenza che va in ogni caso salvaguardata perché qualora arrivassero in maniera massiccia molti nazionali ad investire sulle nostre spiagge ritengo che questa verrebbe meno perché si verrebbe un'omogeneizzazione dell'offerta, mentre oggi è possibile nell'arco di pochissime centinaia di metri, passare da un ombrellone che costa 25 euro al giorno a un ombrellone che ne possono stare anche 200-250 in base ai servizi che sono stati dati. Va contemplato a mio avviso anche un limite massimo dei bagni a cui si può partecipare alle aste da parte delle imprese straniere per evitare che ci sia una man bassa da parte delle multinazionali e anche a livello nazionale. La sentenza del Consiglio di Stato invece che riguarda le attività immobili che fa sì che esse tornino senza alcun tipo di indennizzo al demanio e quindi allo Stato, a mio avviso va in qualche modo rivista perché spesso in queste attività ci sono persone che hanno gestione dell'attività presa dal concessionario e quindi c'è un rapporto commerciale e anche un rapporto economico che comunque dovrà trovare una soluzione. Ripeto, il lavoro della Commissione e del Presidente sono stati straordinari e nell'arco di pochissimo tempo hanno gettato le basi con questa proposta di legge per rendere le gare quanto meno più equi e cercare di salvaguardare quanto più possibile le piccole e le medie imprese toscane. Questa proposta di legge come quella del 2022 è inutile e anzi dannosa perché fa perdere ulteriormente tempo che dovrebbe essere impiegato dal Governo nazionale per trovare una soluzione a un problema che si trascina dal 2006. Oggi di fatto la Regione cerca di sostituirsi allo Stato in un'azione per supportare i comuni, a detta della Regione stessa, ma in realtà in questo modo creerà soltanto i presupposti per un'impugnazione da parte del Governo nazionale che in pratica girerà di nuovo all'indietro le lancette dell'orologio e porterà la scadenza del 31 dicembre ancora più vicina e senza una soluzione. Il problema delle concessioni balneari deve essere guardato in un'ottica più ampia, deve essere guardato all'interno anche di quella che sono la disponibilità della risorsa, anche in una visione rispetto alle spiagge libere che sono drasticamente venute a calare e quindi offrendo meno disponibilità anche alle persone che non hanno la possibilità economica di accedere agli stabilimenti. C'è un problema della risorsa e anche ambientale, c'è un problema delle strutture sulla quale è uscita una sentenza recentemente che devono ritornare di proprietà dello Stato. E soprattutto c'è il diritto della navigazione, una normativa sovranazionale europea che ci dice chiaramente che dobbiamo riportare le impostazioni a quella che piuttosto è seguita in Francia o in Spagna. Questi sono i problemi che devono essere affrontati. Invece con questa proposta di legge si è inteso probabilmente cercare di fare dei favori o cercare di risolvere in maniera abborracciata una situazione che secondo noi si va semplicemente di più a complicare. Ci siamo assenuti riconoscendo il profilo illegittimo di questa legge che cerca di dare una risposta anticipando a Firenze quello che stiamo affrontando e risolvendo a Roma. Il governo Meloni è impegnato su questo fronte, su quello della scarsità della risorsa, stiamo cercando di completare in maniera adeguata la mappatura delle nostre coste e al tempo stesso stiamo trattando ancora a livello comunitario. Quindi è chiaro quello che è il messaggio politico che viene lanciato attraverso questa legge che chiaramente in ogni caso abbiamo considerato e valutato costruttivamente da qui il nostro voto di astensione perché cerca comunque di entrare nel dettaglio e nel merito tenendo conto della contestualità della nostra costa con tutte le sue differenze. Un buon dibattito che però chiaramente aveva dalla sua una buona componente d'ordine politico più che pratico. Sì sicuramente il tema dei balneari è un tema che alla Lega è sempre stato e starà sempre a cuore. Crediamo che in questo momento in un vulnus nazionale la regione toscana abbia dato un'impronta politica che però va nella direzione di quello che è un confronto serrato anche a livello nazionale con le categorie e quindi che porta avanti il principio appunto di sviluppo e quindi di prima realità per quelle che sono le micro piccole e medie imprese che in Toscana ce ne sono tantissime in tema di stabilimenti balneari e quello che è il principio appunto di eco indennizio e quindi di valore imprenditoriale per tutte quelle imprese che si ripresenteranno nel futuro quando verranno fatti le assegnazioni degli stabilimenti e che non riceveranno purtroppo l'assegnazione dello stabilimento balneare. Riteniamo che questi due principi siano due principi saldi per garantire a tutte quelle famiglie che poi sono imprese però sono persone, sono famiglie che garantiscono il servizio dello stabilimento quindi il servizio della tutela ambientale, della sicurezza all'interno degli stabilimenti balneari che garantiscono un turismo accessibile a tutti e che fa grande la Toscana nel mondo si è dato loro un principio di serenità e di tranquillità in questo momento di impasse che stiamo attraversando proprio sul tema della Bolkestein sapendo e essendo consapevoli che questa legge ha anche un vizio di costituzionalità sperando che non arrivi l'impugnativa da parte dell'Avvocatura dello Stato ma sappiamo e siamo anche consapevoli che il Governo nazionale sta lavorando affinché si crei uniformità dal punto di vista della non scarsità della risorsa all'interno di tutte le regioni italiane che sono toccate dal mare e che soprattutto vada nella direzione dell'eco indennizzo e della priorità a tutte le piccole e medie imprese che sono tantissime in tutta Italia. Quindi crediamo di essere in linea con quello che il Governo nazionale sta facendo e che a breve vedrà la luce appunto non solo in Toscana ma in tutta Italia. Forza Italia è l'unica forza politica che il Consiglio regionale ha votato contro questa legge fatta dalla sinistra che uccide un tessuto economico fondamentale per la nostra regione, per l'economia della Toscana ma soprattutto anche per l'economia italiana. Questa legge affossa definitivamente gli stabilimenti balneari, introduce un elemento sul quale non possiamo noi non essere contrari cioè l'indennizzo. Ma quale indennizzo? L'indennizzo si dà a chi ha subito un incidente, a chi gli hanno bruciato la macchina quindi tolgono il lavoro. Fare le aste significa togliere il lavoro a un'intera economia l'economia degli stabilimenti balneari, l'economia delle nostre infanze, l'economia di una comunità intera gli stabilimenti balneari, famiglie che da anni gestiscono stabilimenti balneari che hanno fatto investimenti, che ci hanno messo sacrificio, che curano la costa cosa sarebbero le coste italiane senza gli stabilimenti balneari? Si prendono cura delle coste anche nel periodo invernale lo stabilimento balneare è la famiglia per tanti di noi. Ecco perché Forza Italia è contraria alle aste contraria alla bolchesta, contraria agli indennizi. Certo c'è un elemento, abbiamo chiesto di introdurre in quella legge che è il valore aziendale. Ci hanno detto di no, noi continueremo a batterci per gli stabilimenti balneari che consideriamo un'infrastruttura fondamentale per il nostro paese, li consideriamo politica industriale stare accanto ai balneari significa stare accanto alle imprese italiane. Forza Italia è l'unica forza politica che ha detto di no in consiglio regionale, continueremo la nostra battaglia per dire no alle aste per dire fra le altre cose con voce forte in Europa che la risorsa non è limitata, non è vero lo dimostrano i dati, soltanto il 36% della costa italiana è occupata da stabilimenti balneari il resto è costa libera. Ecco perché per Forza Italia è una battaglia di libertà, continueremo ancora a farla continueremo in Parlamento, continueremo nel Parlamento europeo e qua continuerò a farla in consiglio regionale dicendo no a questa legge che affossa l'economia toscana, fra l'altro incostituzionale è semplicemente crea confusione perché siamo convinti, come è successo in altre regioni che questa legge sarà impugnata dalla Corte Costituzionale, sarà bocciata e creerà ulteriore confusione Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la modifica alla legge sull'accatastamento degli impianti di riscaldamento alimentati con biocombustibile solido con potenza nominale inferiore ai 10 kW. I voti a favore sono stati 21, PD e Italia Viva, quelli contrari 7, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto e un voto di astenzione Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia Il provvedimento dispone che l'accatastamento degli impianti non è più obbligatorio e che di conseguenza non sono previste sanzioni amministrative. Ma è questa la condizione necessaria per poter accedere ai contributi regionali per la sostituzione degli impianti non ambientalmente performanti Sì, finalmente abbiamo licenziato la legge che prevede da parte dei possessori di caminetti che sono sotto i 10 kW di denunciare il fatto di averlo. Questo perché? Perché la regione toscana ha in ottemperanza anche delle norme nazionali deciso di mettere in atto un censimento, cioè noi vogliamo essere molto chiari con i cittadini. Il fatto di autodenunciare il possesso di un caminetto non significa pagare qualcosa perché la procedura è completamente gratuita, non ci sono tasse, non sono previste nessun tipo di tassazione. Serve solo per capire come una fonte che in alcuni territori della Toscana è particolarmente usata anche per riscaldarsi. Infatti ci sono moltissime abitazioni in cui il caminetto è l'unica fonte di caldo in quella abitazione. Siccome in alcune zone, per esempio nella Lucchesia e in alcune zone del Pistoiesse, si sono verificati degli sforamenti di PM10 che ci hanno visto fare un'infrazione da parte dell'Europa per questo inquinamento, però la regione non ha da nessuna parte un censimento di chi ha il caminetto e dove sono questi caminetti. Questo serve perché vogliamo ancora di più migliorare le politiche per l'area pulita e quindi l'idea che abbiamo letto anche nei nostri territori e la preoccupazione di alcuni amministratori all'inizio, un annetto fa quando abbiamo iniziato a esaminare il provvedimento, era una preoccupazione forse legittima perché era un po' confuso il motivo per il quale questo veniva fatto. Invece noi oggi abbiamo licenziato una legge dove è ben chiaro che non c'è nessun costo a carico del cittadino, che c'è l'obbligo di denunciare solo se si vuole aderire ai molti bandi che sono stati fatti per sostituire questi caminetti che sono veramente inquinanti, ma non solo per l'area, anche per chi sta davanti al caminetto a vedere la televisione o a parlare con le persone, insomma questo vogliamo far passare. Conosciamo nella nostra regione, perché c'è un obbligo di legge nazionale, tutte le fonti di calorifiche sopra i 10 kilowatt, le caldaie, termosifoni, tutto quello che gira intorno ai riscaldamenti delle nostre abitazioni, ma nessuno conosceva quanti e dove sono i caminetti che, ripeto, in alcune zone da Toscana per motivi atmosferici proprio di una circolazione dell'area dei venti ha creato un inquinamento importante e dannoso per la salute. Quindi invitiamo tutti a rivolgersi al proprio comune che grazie anche a un atto di indirizzo che abbiamo approvato oggi sarà supportato da ANCI ed ARR per creare dei punti di comunicazione e di informazione per i cittadini. Vogliamo solo sapere dove sono chi ha questi caminetti solo per poter mirare meglio le azioni per l'ambiente nella nostra regione. Una battaglia vinta da parte di Fratelli d'Italia, come ricorderete lo scorso anno la Giunta presentò con due delibere un sistema diverso di regolamentazione delle emissioni sulle PM10 perché la Toscana, come altre regioni, è oggetto di una duplice sentenza della Corte Europea per sforamento nelle emissioni delle PM10 e nella quale si pensava a sanzioni nei confronti di tutti coloro che fossero stati possessori di impianti a biocombustibile, quindi anche i caminetti, senza alcuna distinzione, con sanzioni anche piuttosto pesanti e con controlli che venivano scaricati sui comuni. Noi ci mettiamo di traverso, non ci andava bene, in effetti anche il Partito Democratico ci ha ripensato, la Giunta ha preso tempo la scadenza per l'accatastamento e l'autocertificazione dei nuovi impianti è ora al 31 di luglio 2024, ma nel frattempo è stato diviso le categorie. Gli impianti sopra i 10 kilowatt hanno l'obbligo di accatastamento e se non lo fanno i proprietari saranno oggetto di sanzioni dopo le verifiche fatte dall'Agenzia Recupero Risorse della Regione, gli impianti sotto i 10 kilowatt e quindi la maggior parte dei caminetti e dei piccoli sistemi interni alle abitazioni non sono più soggetti all'accatastamento ma basterà una semplice autodichiarazione senza comunque nessun tipo di sanzione. Quindi la consideriamo una battaglia vinta anche se molto c'è da fare per combattere l'inquinamento atmosferico nella Regione Toscana. Grazie a tutti.